Da lunedì anche a Teramo gli studenti delle scuole medie torneranno sui banchi, così come previsto nelle zone arancioni. Questa settimana Teramo è stato l'unico comune in Abruzzo dove gli alunni di seconda e terza media sono rimasti a casa. Il sindaco d'Alberto infatti aveva deciso di non dare retta all'ordinanza regionale che ci aveva riportato in zona arancione, ma ha atteso la decisione del ministro della salute, secondo cui il declassamento di zona entrerà in vigore da domenica. Da lunedì, seconda e terza media ripartiranno in presenza, nel pieno rispetto della legge, in piena sicurezza e quindi in un contesto normativo diverso, ma soprattutto con la certificazione sanitaria da parte della cabina di regia e del comitato tecnico scientifico, su cui si regge l'ordinanza del ministro della salute, che possiamo riaprirle in serenità, in sicurezza, a garanzia ovviamente dei nostri ragazzi, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, ma di tutta la comunità scolastica. Ed Alberto si appella al senso di responsabilità dei governanti, chiedendo di ricucire lo strappo istituzionale tra Stato e Regione. Se il conflitto dovesse perdurare, commenta il sindaco Terramano, l'iter per diventare zona gialla sarà più lungo e a pagarne le conseguenze saranno gli abruzzesi. Cerchiamo di ricondurre tutto in un dialogo istituzionale che sulla base del principio della tutela del diritto alla salute ci possa consentire di lavorare affinché la zona gialla possa arrivare prima possibile. Di certo questa situazione, quello che è successo in questa settimana, ha ritardato senza ombra di dubbio, o meglio, ha messo in discussione un'accelerazione del passaggio in zona gialla. Grazie. 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 Grazie.